Abbiamo a prendere questa cosa a San di 170 e tocciamo Ferrara, notate? Ah no, vediamo il loro mese. No, vediamo il loro mese. No, vediamo il loro mese. Sì, è una barra d'acciaio. È una barra d'acciaio per garantire il telastro che è toccato. Signora, allora si parla con il taparato? Sì, c'è la roba. Ah, un loco che è il taparato, ha fatto toccare... Stavo un cattaggio per portare nel negozio. No, no. Quindi, a questa facciamo i lavori, la ceremonia è inaugurata con la canna. Sì, la città è la città. Quindi, la città è la città. Quindi, la città è la città. Quante città? Ceremoni a 26. Quindi, c'è il 12, il 15 maggio, per quanto riguarda il lavoro. No, a chiamare a Carmelo, Giovanni, va bene, va bene, va bene. Ma a Carmelo, ti lo fa fare, ci sono già più raro, magari. Eh, a parte c'è un'apparato. Sì, è che spesso si fa fare, un'apparato, un'apparato. Certo, non lo fa. A piano, che campagna, va bene. Questo insame disorganizza, io, quando è che ne ho fanno, io, invece, sapate, magari, con la mia. Carmelo, una cortesia. Sì. Quando si fanno questi lavori, me lo fate sapere. Ehm... Lui è quello che sempre facevano a noi. No, no, no. Ti spiego la situazione, perché mi piacesse fare un time... No, un time-lapse. Cioè, praticamente, lo sai quando si fanno la fotografia, dopo un busto di tempo un anno, eccetera, per farvi vedere come viene eretto. Ora io, se non lo ricordo, lo sentivo direttamente al muratore, perché questi lavori, il muratore lo farà, dico... Almeno una settimana prima. Adesso ho messo un'idea, un po' la mano alla pasta. Allora, che non la fa faccia. E quindi, con me che hai il sogno di affurdo, io sono a pudino. Sì. E quindi, con me che hai il sogno di affurdo, io sono a pudino. Sì. Sì, noi siamo a pudino. Io non sogno che hai il sogno, io non che hai la pizzi. Va bene, ora facciamo la roba. E io e le ragazze rimanano. I pizzi nei rinchi. Ok, ciao. Avevi ragione tu, mia cara. La vita non dura mai una sera. Il tempo di una follia, è breve, fugge via. E poi, cosa rimane dentro noi, questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora, ancora via. Il bene profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende. Passione violenta sì, comprendi, le mie amiche mie, tu puoi. Tutto normale fra di noi, cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore, sempre mia, sempre mia. lontanata. Le fondazioni ci vogliono. Se no, questa cosa come attenta. E poi scegliendo del lavoro che del più distante sopra un prelo Partire su un altro andare lontano Un lambo negli occhi ciao Accordo a far male ciao Dentro di me, tu c'erresti l'ostaggio, qualche parola fecola, un po' accopero, forse non, Amore mio caro, amica mia, l'ora c'ereste, l'ostaggio, qualche parola, un giorno, una vita, qualche parola, resti via, amore mio caro, amica mia, amica mia, amica mia, amica mia, amica mia, amica mia, amica mia. Ma che c'hai, c'hai un bandaggetto? E allora, va bene, allora Giovanna, rimaniamo così, come? Com'acchino! 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 Se non ho perso, c'è una parola. Poi c'è un signore che... Chi lo dirizza, corrisponde? E poi c'è l'artista. E attenzione Giovanna, perdone ma Giovanna, attenzione! Abbiamo il testimone che si chiama Don Peppino. Da questo momento in poi, loro vendivano la parola, è stato testimone, ha la presenza costante. Don Peppino cosa? Stai durando in spazio, mancava le pistele. A me non ci sono a me di 90 anni! Non lo garantisce, non bagliamo niente! Garandisce! Esatto! E' un preciso problema! Sì, signor! No, no! Allora, non mi piacchino! Non mi piacchino! Non mi piacchino! Non mi piacchino! Ahahah! Non mi piacchino! Non mi piacchino! ... 바 ... del Grazie a tutti. 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 un sogno che è quello di realizzare un monumento a ricordo del nostro compianto illustre con cittadino Severino Santiabichi. È un progetto che abbiamo visto caldeggiare da tutte le parti nella città e quindi sicuramente apprezzato e quindi l'abbiamo fatto davvero con grande passione. Siamo tuffati in questa avventura e finalmente la vediamo realizzare in un'opera del maestro Denaro che poseremo proprio il 26 maggio che è l'anniversario della nascita del nostro giudice Santiabichi. Ricordiamo che il giudice ha vissuto tanti anni lontano da Scicli ma lo ha tenuto l'affetto per la sua città molto legato alla sua terra. Infatti volentieri veniva e volentieri si trovava proprio su questa zona dove consumava il caffè con gli amici, con i cittadini con cui volentieri si fermava a parlare, a chiacchierare. Insomma apprezziamo tantissimo anche questa figura di questo illustre personaggio che ha dato tanto anche all'Italia istituzionalmente. Ricordiamo i suoi processi Moro, Moro Terre, il processo Aliaccià per il Papa ma anche i suoi trascorsi quando all'inizio della sua carriera è stato in Africa a portare davvero parte della nostra Costituzione, lo potremmo anche dire persino lì. E ora quindi diciamo che con la famiglia, perché naturalmente e per ovvi motivi c'è la famiglia soprattutto, che ringraziamo tantissimo, abbiamo pensato alla realizzazione di questo monumento a ricordo del nostro giudice. Perchè va a fare tutte queste fotografie? No io non faccio fotografie però torna a ribadire non sono foto, sono riprese. Ma come mai l'associazione Primo Maggio che rappresenti in un modo o nell'altro ha deciso di fare questa operazione? Ah la domanda è questa qua, è chiara, perché la Primo Maggio ha deciso di... perché il giudice Santiapiche io penso che merita questo ed altro, perché è stato un personaggio importante per Ciclo dove ha portato a conoscenza il proprio paese dove lui è nato e penso che gli cicletani tutti assieme stanno facendo questa piccola opera in sua memoria, che è una cosa che è molto 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 importante che rimarrano nella storia. Un'altra cosa è una bella famiglia della Liga, che mi modella la Gilla... grazie a tutti solo quello grazie allora se volete fare un'altra o la scolmide sulla labbra, sul marco, sulla colonna oppure si va a una pentamina e la rifacciamo e la fai 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 e la prefettura vuole sapere anche già la e la sovrintendenza sovrintendenza è una cosa ma quello vuole è la prefettura che vuole che stiamo mettendo un personaggio in una piazza pubblica la prefettura e se questo personaggio per carità non è del caso è del caso giudice se era o lì o protestante quindi la prefettura non lo ha dimenticato si oppure dov'è che ci possiamo vedere no aspetta oh perfetto se no ci possiamo incontrare a casa mia nel 79 nel 79 fu il dottore Campo si si e lui figlia a scuola io figliavo le roba di gioco però ah si e lui insegnava alla 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 e e e e ma e sì e l'est으로 più un att con Is it everything? Life 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 Life